È stato denunciato il 18enne dell'agro accusato di far parte di una rete di matrice suprematista e neonazista pronta a commettere in ogni momento atti violenti contro ebrei, musulmani e chiunque fosse considerato di razza inferiore. Si tratta di un giovane paganese, insospettabile, minorenne all'epoca dei fatti, individuato dagli agenti della Dicos di Salerno con la collaborazione degli uomini del commissariato di Nocera Inferiore che hanno sequestrato computer e smartphone all'interno dell'abitazione del giovane. L'intervento rientra nell'ambito di un'operazione internazionale di polizia coordinata dalle agenzie Eurojust ed Europol a cui ha partecipato la Polizia di Stato di Torino. La propaganda del gruppo, formatosi sul web, mirava a reclutare nuovi membri utilizzando giochi e contenuti accattivanti sui canali social come ad esempio video che mostravano come fabbricare armi ed esplosivi come bombe Molotov. I membri del gruppo si scambiavano anche consigli su film e siti web che promuovevano la supremazia della razza. Nella chat si dicevano pronti a commettere atti violenti al grido di unisciti a noi, uccidi con noi oppure uccidi nemici della razza bianca senza contare ricorsa ai simbolismi di sigle estremiste e neonaziste. Le indagini delle forze dell'ordine serviranno a far luce sul ruolo del giovane paganese all'interno del gruppo, elementi che potrebbero aggravarne la posizione. Il ragazzo, insieme ad un coetaneo di Torino, era transitato inizialmente all'interno del network e in seguito fu riuscito per aderire ad un altro gruppo Telegram di matrice neonazista attestato su posizioni più teorico-ideologiche e meno militanti sul piano operativo. Le indagini, attraverso l'analisi degli smartphone e dei computer, proseguiranno per ricostruire le diramazioni della rete sui social network e i soggetti ancora ignoti potenzialmente pericolosi.